Le nostre politiche di smaltimento dei rifiuti sono basate su cinque principi fondamentali. Per Refuse si intende qualsiasi tipo di tecnologia o di tecnica che evita di produrre dei rifiuti. Gli esempi ne abbiamo soprattutto in unità di verniciatura, dove abbiamo delle linee di spruzzatura di vernice che non utilizzano l'acqua. Reduse è un principio che si applica per ridurre quanto più possibile la quantità di rifiuti prodotti. Reuse significa utilizzare più volte gli stessi materiali. Questo principio è applicato principalmente nei nostri imballaggi. Recycle significa riciclare materiali per dar vita a nuovi prodotti. Da noi è applicato soprattutto nella raccolta differenziata di carte e cartone, che vengono appunto raccolti lato linea, portati in pressa e da qui in cartiera per essere poi riciclati. Un comportamento sostenibile inizia già dall'officina, dove tutti noi effettuiamo una continua formazione al fine di differenziare quanto più possibile i rifiuti prodotti in modo da smaltirli in modo più sostenibile.